in culinaria e fitoterapia. Un amico, lui ha un'azienda, una fattoria sociale aperta nel 2014 giusto, con altri tre amici e oltre che un orto biologico, quindi produttore di tutto quello che sono vegetali, frutta e anche apicoltore quindi miele, latte, olio. Si fa pubblicità, insomma vi invito pure ad andarlo a trovare a Mirabella, di plano il rassecale. Rassecale in dialetto significa poi semenzaio, dove partono i sementi per dar vita a qualche cosa a qualche cosa che è quello che ci troviamo pure a fare anche oggi, forse ripartiamo dopo un Covid, forse ritorneremo però non portiamo sfortuna. Lui è Marco e lo ringrazio pubblicamente insomma davanti a tutti voi, grazie al Presidente e se vuole aggiungere altro se no magari partiamo. Grazie a tutti, grazie.